oh ma guarda eccoci qua dopo un po di tempo che non ci vedevamo qui su youtube è veramente incredibile in così poco tempo veramente vi ringrazio di cuore è pazzesco perché tutto è partito solo due mesi e mezzo fa quindi sta cosa è veramente incredibile bene che dire mi sono divertito veramente tantissimo in live a giocare con voi veramente grazie 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 per chi è rimasto sempre in live a supportarmi e a tenermi compagnia e dai ci siamo veramente divertiti tanto ma ancora c'è da divertirci e come quindi trovate il link in descrizione del mio twitch per chi è nuovo perché vecchio perché anziano quindi passate mi raccomando quasi ogni giorno dovremmo essere in live quindi link in descrizione ma non è che io abbia fatto qualcosa di veramente speciale per i mille follower però per chi è restato in live su twitch potrà aver visto vabbè faccio la replica qua diciamo su youtube che ho unboxato la nuova tastiera bene qui potete vedere alcune clip in cui unbox la tastiera insieme a voi bene è un hands man mini e anche grazie a voi sono riuscito diciamo a prenderla quindi vi ringrazio infinitivamente può dire non so se si può dire però vabbè taglia taglia adesso mi sono ricordato che in effetti c'è una vera e propria sorpresa per i mille follower visto che sono arrivato ai mille follower ho finalmente rimesso il codice creatore quindi ragazzi perché nuovo vi ricordo di inserire nel negoziato il codice creatore il burlo nazionale tutto maiuscolo tutto piccolo come volete per supportarmi grazie grazie mille per chi lo farà e per chi lo farà mi racconto taggatemi su instagram trovate anche il mio instagram in descrizione che io vi ripasserò con una storia veramente veramente grazie per chi lo utilizzerà e lo userà grazie mille io ringrazio anche chi mi ha aiutato a collaborare quindi i miei mod e anche i nuovi mod che mi hanno conosciuto grazie a twitch quindi veramente grazie anche a loro ma soprattutto veramente grazie a chi mi guarda quasi ogni giorno e che sta in live a supportarmi a proposito apro anche una parentesi trovate il link in descrizione anche del mio server discord lì resterete sempre aggiornati su quando android live sia su youtube vabbè su youtube vabbè ormai sono abituato con youtube volevo dire su twitch perché è ormai la live su youtube raga ci va solo ciccio gamer in live su youtube quindi entrate anche nel server discord per non perdervi nessuna novità quindi vi aspetto il link in descrizione cliccatelo 200 volte o no meglio di no forse poi vi esplode il computer o il telefono che ne so comunque vi ringrazio veramente per tutto il supporto che mi state dando e ormai si punta ai 2000 follower e ormai ci siamo vicini quindi aiutatemi a crescere sempre di più e a divertirci ovviamente come sempre signori quindi che dire io ringrazierei infine tutti quelli che hanno supportato anche la community per farla crescere ancora di più quelli che hanno donato e quelli che hanno regalato vi ringrazio anche tutti quelli che hanno contribuito quindi grazie 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 niente da aggiungere veramente grazie di cuore ci vediamo in live su twitch e quindi clicca il bottone clicca e si il bottone vabbè il link in descrizione trovi quindi ti aspetto lì lascia un bel like al video perché fa sempre piacere e commenta che ti lascio un cuoricino signori ci vediamo in live su twitch ciao Can we start a little ruckus?